Il Comune di Arezzo dice no all'area vasta per la gestione del patrimonio immobiliare ERP, le cosiddette case popolari. All'indomani della riunione in regione toscana l'assessore alla casa del Comune di Arezzo è ferma nelle sue posizioni. Una legge regionale che di fatto non prevede investimenti, mentre le politiche abitative hanno bisogno di investimenti. Vuoi perché il patrimonio esistente è un patrimonio vecchio, degradato, vetusto. Vuoi perché proprio mancano gli alloggi popolari. Il Comune non è in grado di sostenere costruzioni, l'ente gestore benché meno, per cui vanno fatti la priorità a una serie di investimenti. E poi che tutti i Comuni portino avanti quello che abbiamo fatto noi ad Arezzo, cercare di mettere delle regole. Nel frattempo è uscita anche la nuova graduatoria. Sono stati liberati alcuni alloggi occupati illegalmente da altrettanti inquilini segnalati dai cittadini. Allora, ci sono i furbi, quelli sono già stati buttati fuori quasi tutti. Però magari ci sono persone che per anni hanno abitato magari da soli in 90 metri quadrati, ma non si sono neanche resi conto che non era fattibile la questione per una questione di sottutilizzo, ma perché nessuno gli ha mai detto niente. Per cui stiamo facendo anche un lavoro di convincimento per cercare di non mettere a disagio magari le persone che da anni che vivono nella stessa alloggio ed è diventato praticamente loro. Però abbiamo proprio la necessità di razionalizzare un pochino i pochi alloggi che abbiamo, che poi su Arezzo sono intorno ai 1300, non sono pochi, ma non bastano. Ora su Arezzo abbiamo due cantieri aperti, Pescaiola e Villaggio Gattolino, per cui siamo in attesa che i lavori giungano al termine. Ci auguriamo presto!